buongiorno a tutti siamo a policoro nella centralissima via siris all'angolo con via brescia qui vedete un'auto della polizia dello stato nella notte abbiamo già dato la notizia con un flash c'è stato un incendio che ha coinvolto tre auto indaga la polizia di stato il rogo presumibilmente doloso perché le indagini sono appena sono iniziate quindi ancora non c'è proprio tutta una definizione si aspetta intanto anche l'arrivo della polizia scientifica sarebbero iniziate dalla prima auto da questa panda per poi proseguire alle altre due il tutto attorno alle 14 ovviamente i residenti soprattutto chi abita in questo palazzo che vedete qui in questa palazzina a due piani che ha subito anche danni alle alle finestre ai balconi vedete tutto annerito ha avuto un enorme spavento sono arrivati sul posto i vigili del fuoco del locale di staccamento e subito dopo gli agenti della polizia dello stato a cui sono state affidate le indagini vedete sono in corso adesso i primi accertamenti il rogo lo ripetiamo avrebbe preso origine ha preso origine da questa utilitaria per poi interessare gli altri due mezzi che sono che erano parcheggiati in in fila sullo stesso vicino allo stesso marciapiede da quello che abbiamo accertato pare questa è una notizia ancora da confermare che le tre auto siano tutte di uno stesso proprietario un professionista di policoro ovviamente le indagini ve l'abbiamo detto sono all'inizio quindi non abbiamo dati precisi da farvi vedere il tratto di strada interessata tra via siris e via brescia qui siamo su via brescia è stato chiuso al traffico indagano gli agenti della polizia dello stato del commissariato di policoro il fatto è inquietante perché nel linguaggio usato dagli investigatori io ho chiesto se questo incendio possa considerarsi doloso e loro mi hanno risposto presumibilmente quel presumibilmente per quanto riguarda la mia esperienza sta per questo incendio è doloso e trattandosi nel caso se fosse confermata anche quest'altra notizia che tutte e tre i mezzi sono di una stessa persona possiamo parlare di un incendio doloso a scopo di minaccia o di intimidazione ovviamente ne sapremo molto di più nei prossimi nelle prossime ore e noi vi terremo aggiornati su questo fatto inquietante che sta interessando questo fatto di crona che sta interessando la città di policoro e da via siris angolo via brescia anzi da via brescia è tutto ci risentiamo alla prossima grazie